Mi metto tu il tavolo di superare! Non so più che non si è spiegato nulla! Mi stai facendo un sacchere risa Ma ieri sera, ma mi chiede Mi sa che ci c'è un marito Perché stai ritravi tardi? E' stato perché hanno dormito tutti Oh, ma ti stai facendo un sacchere risa Bella figlio! Chi è? Favolite! Non ci stai riusciti Mi chiedi in casa Ma c'è un po' pazzo! No, no, non c'è gente che fa la persona normale Oh zio, che sta facendo? Eh, sta dormendo Di tuo salotto Coppo divano Coppo divano? E per chi? Che? Che sta ritravi tardi! E la migliela, come volete, mando vedere Sì, retta la giunta insieme, capite? Che sta dormendo Ma sapete Ma sapete Quella legge E' terribola E' terribola E' terribola E' terribola E' terribola A proposito A proposito, signorita Ma a me l'affitto Chi me l'ha pagato? Voi o zizi questo? Io che c'entro Te l'ha pagato? Io gli proposi la casa Ma l'ora ci sono venuta ad abitare Eh, vabbè Non ha ricevuto zizi Non c'è da dubitare Salve Eh, no, no Non è affatto per dubitazione Sapete Quando i padroni me Vanno in milleggiatura E' affitto in questa casa Che lo vogliono conoscere a me E io lo faccio a rispondere di tutto coso Capisco, capisco Non c'è possibile Scusate Ma Voi il mio padre si dava portinato? Sì, signora Venga la camera mia vicino a Cangelo e al giardino Qua quando si ha affitto in questa casa Io mi presto da qualche servizio Non c'è anche camera E perciò siete a casa? Sì, signora Vabbè, vabbè Io faccio fuori Sì, signori Chiamatemi Permettete Fate, fate Cicci Cicci A me è nata in brogna Voi fatta la chiesa Sono Don Nicolino Ti ho fatto nata l'ora Io ti prevengo Vabbè 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 Trecento po' o mezzo eh Se no O stupiamo a cuore E senta voi Che dire? Qua Qua Fu inopoglio Uno me ne ha detto Uno Un In mezzo che sono voi Che assai No, no, no Uno Allora fu inopoglio Non c'è capito Non c'è capito Non c'è capito Non c'è capito E i passachillo qua Vabbè 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 Non c'è capito Vabbè 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 Guardate Che combinazione Ma oggi sia pure qualche cosa No, no Non dire se spaventai Noi non troviamo più Tra Meno male Meno male Ma Michelià Tra se tra se viene franato qua Che ti faccio avere le 100.000 lire Vabbè 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 Ma te lo so Ma sono tu Nicone A drizzare l'osso Ma quando ho ma Ma che man ti ha drizzato Ma che man ti ha drizzato Io non me posso drizzate Vabbè Dio Jei reine Jopu Jei lo fui nell'Aventino Mannaggia l'armare la mamma Mano Nuo Scusate Che l'ha già lasciato sullo locomotive Ma io tengo l'ascusale pronte e una scusa buona sarà da creare a forza Vieni, è nudo non lo faccio capace come non lo provo chiede se lei era sempre stumato, rimbambino non riuscì a cucciare ma voi non lo diste potete parlare è sasato perché soffermi una cacapisciassato chissà non ho detto ieri sera pesato tra quell'ora e poi ho detto su senza dubbio perché Ciccino non era visto è chissato e quando tu già dimannassi d'accordo e tu mi rispondessi non mi ricordo che io non so niente per bandagliota perciò non mi sono andato perciò non mi ricordo signor i fogli c'è stata femmina che vuoi parlare con Don Felicio e tu? e tu? si chiama Amalia Stepponi ma è insieme con una bella figliola una bella figliola e tu vuoi la marito? domani eh signora credo già di essere un sbaglio perché io quando l'ho già tornata chi era essa mi ha detto dite a Don Felice che sono la madre della sua fidanzata e ho portato con me anche la ragazza ma tu che dici? mamma mia ma ti ha detto proprio così proprio così ma non c'è l'ora Don Felice che mi stavo qualcosa sotto ho già finito io ho già finito ho già finito ho già finito chi è sta donna Amalia Strepponi e chi è sta fidanzata oh Digger lei sono caro ha solo l'ora e tu sei e tu si vieni con te va bene parla tra si parla tra si signor va morire buongiorno signora buongiorno 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 voi signora volete parlare con Don Felice? sicuro se sta comodo però eh no 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 non sta comodo la via di certi dolori sono venute stamattina posso vendere ancora mi dispiace ma perché ne soffre? da tanto da soprappendicite però voi potete parlare con me è lo stesso ah ho capito e voi forse siete la madre? no no io sono la sorella la sorella più grande prego accomodatevi grazie grazie ecco qua signora mia noi siamo venuti per un matrimonio un matrimonio combinato così frienno ma gnanno ma quando è bella questa signora quando è bella hanno un matrimonio pregno ma gnanno eh sì 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 ieri abbiamo avuto l'onore di conoscere a Don Felice vostro fratello a lui è piaciuta mia figlia mia figlia l'ha trovato molto simpatico e così abbiamo combinato il matrimonio lesto lesto figuratevi io ho un grande dolore a staccarmi da mia figlia ma siccome vostro fratello è un uomo molto simpatico e molto positivo io gliela do volentieri a mia figlia è sicuro e perché si deve perdere tempo eh sì sì e se a vostra figlia piace il mio fratello mio fratello piace a vostra figlia possiamo fare tutto lesto lesto come dicevi io frienno mangiare ma voi ne avete piacere io signora mia ma io ne ho tanto piacere tanto piacere non sapete come sono contenta e voi signorina ma siete così bella così carina ma non è troppo anziano mio fratello per voi oh ma no no ma che dite no 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 papà diceva sempre che l'uomo deve essere molto più grande della donna è brava papà brava brava papà e ditemi siete pronta per il matrimonio siete preparata sì 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 io cucio dipingo taglio i vestiti ho il diploma da infermiera conosco a memoria tutte le erbe medicamentose sì 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 e poi cucino alla napoletana alla francese all'americana sì sì posso accontentare il marito in qualunque gusto sì il mondo è una palla che gira ma che si fa tre palline mongio zecca niente signora poi ve lo racconto un'altra volta eh e sapeste come danza mia figlia eh fa pur danzare la pardascia brava 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 ce l'avete un attacco eita mi piace tanto l'antacco scusate non ho capito una presa di corrente ce l'avete ah una presa eh sì sì ci dovrebbe essere da qualche parte ma signora scusate che dovete fare la sua presa eh no siccome vostro fratello voleva vedere mia figlia danzare io ho portato l'apparecchio con il nastro e dopo se abbiamo tempo ci divertiamo eh signora mia dovete vedere quando ci divertiamo e come ci divertiamo sì 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 ma scusate signora fosse lo sbaglio questo don ve lice che voi vede che cognome eh cognome mi pare cioscia cioscia bocca signora mia cioscia bocca cioscia bocca sì 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 cioscia bocca e non è neanche napoletano ha detto che è di rocca rocca cioscia bocca cioscia bocca rocca rocca secca rocca secca rocca secca sì sì ma è lui è proprio lui signor il mio fratello ma sicuro si assomigliano come due gocce d'acqua non c'è dubbio eh signor scusate eh accomodatevi in quella camera sì io me lo vado a chiamare e lo faccio venire subito subito sì sì ma li ripeto se non sta comodo noi torniamo domani mattina no no e quelle se sa che siete venute che ve ne siete andate si può prendere collera no 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 accomodatevi accomodatevi eh magari sì vai chiama zio felice e dille la zia devo parlare però lo dica ci sono ste belle signore qua eh sì sì la facciamo una sorpresa la facciamo una bella sorpresa che bella idea che bella idea che bella idea che bella idea lo prego accomodate grazie accomodate applausi applausi mi piace mio fratello mi piace assai 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 hai capito hai capito ah è strutturale è strutturale è strutturale è strutturale ma non devi dire che tu è non devi dire che tu è non dice niente dice che sono a me non devi dire non c'è tu sapete che è il giro rato che è il giro e lì ha già fatto a casa ha già fatto a casa ma queste sono cose non le sapete ma come chi le insurrà e si mette a combinar il matrimonio ma niente non mi fa con passione dicevano tutto qua il tuo paese donna conge non puoi tornare a sposare perché ve lo bandi e così è stato eccolo qua non senti che succede sì sì ma com'è che vi sentite poco meglio poco meglio oh mamma mia mi lavorava come fosse che inna campana faccio un bongo sì sì e poi fai tu partina perché lo canccio passare da sei non sa come si è asciuta via così tu non mi lasciava su e non mi sarei trovato via a questa città un brodo Ma perché? Che succedeva? Che succedeva? Che succedeva? Che succedeva? L'inferno! Si è smutato in tutti i pazzi, in meno modo che riuscite a scappare. Ma che pulita a me, che pulita a me! Io vi ho detto a correre pressa per una chiamata di consulta e mentre stavo tornando, sciolà in coppa una scorza di limone, vietta a finisce in fronte con la faccia di coppa una carrozzella. Non so, c'è come uno mi schietta in occhio. Guardate qua! Oh mamma mia, ma passano mai i brughi e te! Ma la zia poi non vuole letto sedere? Niente, niente! Mi fece una canca riata per te vecchio! Quando ci sto? Riva! Questo è uno del ragionone! Ehi, ma Giulietta è chiaro! Ehi, ma Giulietta è giococutiva! Oh mamma mia, mi fanno molto... Ehi, ma Giulietta è giococutiva! Ehi, ma Giulietta è giococutiva! Ehi, ma Giulietta è giococutiva! Rispondo, vada al cazzo! Sì, signor! Ehi, questo è il modo di rispondere! Guarda la cazzo! Ehi, ma d'altra parte che ti vuoi aspettare! Questo è il figlio di un porcarlo! Ehi, sì, sì, ah, 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 così si risponde, eh! Ehi, così vuoi rispondere! Eh, Margherita, ma che è questa mariera? Eh, difendimi, Cecilia, difendimi, sono strutturato i femmini, ma mettono sotto le piene. Lasciate fammi, lasciate fammi. Margherita, ma tu lo sai che quest'uomo lo devi rispettare perché quest'uomo è il tuo secondo padre? Eh, perciò lo tratta così, perché penso che lo ha già rispettato, perché se non pensasse a questo. Ma c'è lì? Va bene, va bene, questo lo puoi dire perché io non sto in casa. Perché quest'uomo sta subito, ma quando mi vengo a stabilire a Roccasecca... A Busco. A Busco, lo vedrete, quando mi vengo a stabilire a Roccasecca le cose dovranno cambiare. Lascia stare, Cecilia, lascia stare, tanto questa è una mozza e gotola, non tiene educazione. Eh, gliela imparo io, la metto io a dovere. Mamma sta spettando l'indicazione, io andrò un momento che vado a parlare. A me metto a parlare e muovare da mamma a parlare. Aspettate, me le volete dare quelle centomila lire che mi servono per la macchina? Ah, giusto, giusto. Sì, sì, non l'avevo promesso, sì, eccolo qua. Questo è un assegno, dove non c'è mai... Eh, è un assegno di duecentomila lire. Tu muovalli a cambiare, capito? E togni centomila lire da me e centomila lire di figlio tu. È chiaro la macchina. È chiaro. Zio, faccio presto, torno subito. Ah. Con voi, signori, faremo i conti quando torno al paese. Va bene. Zio, sì. Torniamo l'estero, vado su tu. Certo, zio, non dubitate. Non dubito. Eh, vabbè, andiamo a vedere tua madre che costum... Avete detto bene, avete detto bene. Andate a vedere, mamma, che buole. Stai in quella stanza. È venuta per combinare il matrimonio della figlia con voi. Ma chi? Chi, chi? La madre della vostra fidanzata è venuta qua per combinare il matrimonio con il matrimonio. Come dice lei, è fregiant mangiand. Assassino, agliotto. E quando voglio fare ciasi perché si va andando. E non voglio fare una brutta figlia. Ma vai se parla. 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 E si capisce. No, ma che state dicendo? Che stai dicendo? Che stai dicendo? Tu, 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 si è appizzato l'occhio in coppa. Robba mia, un coppia su di me. E fatto un senso da per nare. L'ergo niente. E stassi. Porca. E le popozze capisce. Ma che pulito sape? Che pulito sape? Ma queste sono cose che non si possono credere. Ma come? Non mi hanno un giurato se mette a combinare il matrimonio. Ma con chi? Con la figlia di donna Maria Streppone. Iate, iate da quella stanza che non stanno aspettando. Squarna, squarna sta faccia. Donna Maria Streppone. Ma questo nome non mi è nuovo. E lei che è la pazza che vuole rifiutare la figlia. Ma come l'hanno fatta fuori la colpa della pensione? Dico io, che vigilanza c'è? Non è possibile. Fammi presi. Fammi presi. Es. Ora non mi faccio. Mamma mia, che stai alla donna. E voi che la sento a migliere. Dicero il mio peggio che diventa pericoloso. E voi che facciamo? Aspetta. Voi faccio una cosa. Scrivono un biglietto alla direttrice della pensione Stella. Donna Carmela Sanguet. La facciamo di qua, così chiariamo tutti. Madonna mia. Madonna mia. Eh, 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 ecco. Eh, 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 ecco. Cara, cara, donna Carmela. Prego, venire urgentissimamente, urgentissimamente, al villino dell'osa. Eh, sì. Eh, 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 portate con voi, portate con voi, due facchini, eh, facchini, eh, facchini, e quattro metri di fune. Eh, saluti, eh, felice, e ce la c'è chi ha un po' pa. Ecco qua, buola in busto, eh, ecco, vi, eh, 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 come, insomma, no, però noi entriamo con qualche punto, quindi mi te lo chiedevo a fare, secchi tutti di un po' il pallet e di fune. Non faccio una locata, no, no, e voi non locata. Eh, 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 ecco qua. Non ho rispetto a me non ho e non lo faccio mandato a sto biglietto. Signore, aggiunta che hai ricevuto ne parliamo dopo signorina scusate potete far recapitare questa letterina alla direttrice della pensione Stella si 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 ci possono andare bene bene poi dopo parliamo del conto grazie 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 e mo capi mo che viene donna Carmela chiariamo tutti e dobbiamo chiarire tutti e ho voglio farle i a che da capurare la patata si ho voglio farlo dall'avvocato donna Saberio che l'ho bella ragazzo va bene va bene ho capito grazie io ho detto questo il visto se ne scappò ma ora se ne scappò tutto buongiorno buongiorno eccolo qua amico mio e che mi scusta e che ti dà ancora paura a me ma non è possibile ma io questa mattina non so nemmeno trocato va bene va mettete paura guardate a me questa cosa questa cosa che va mettete paura a me mi fa piacere mi fa piacere assai perché si vede che io la parte l'ho fatta bene tutta naturale tanto naturale e che avrò sentito ci scappò se sei fu io dopo la pensione si sa soppeggata tutto quanto come se mi caiva e l'ho fatta ci scappò io che c'è siete voi che avrò siete messo paura dunque ho saputo il vostro indirizzo dalla direttrice e vi ho portato un palco e quattro poltrone se volete portare qualche amico si si prego vi ha mettito un cazzo ma prego avvicinatevi ma avvicinatevi ma guardate come sta impressionando questa mannaggia ma come mi fa piacere sta cosa allora ve li lascio qua e allora se sono stato così bravo con voi vuol dire che l'altra domenica vi faccio sentire Francesca Tarini ma Francesca Tarini è disperato e l'amor mio che intendo delirio forse che dicesti io Tarini ah taci unire potrei tu mami si repenti nella tua fiamma Giulia e tu che ci fai te vi ho seguito perché 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 voi amici ma non ci capite che usate il vostro marito che l'è pazzo 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 è pazzo di gelosia ma io non voglio più vivere così io non voglio vivere a vita in una pensione sì giusto voi a vita in dritti dritti in manicomio ho capito Giulia sì ma io che ci posso fare voi avete detto che siete un artista siete un attore appassionatissimo dell'arte drammatica sì questa domenica sera avrò successo le porte di tutti i teatri si apriranno la mia arte ah e magari anche fuori Napoli oh certamente anche all'estero e perché no farò tournée in tutto il mondo sì sparite fuite gli atleti e voi avete detto che ci vuole anche una bella presenza ma certamente sì ci vuole una bella presenza sì e io ce l'ho una bella presenza effettivamente oh ma io leggo molto sapete io so tutte le commedie a memoria perché non ho mai nulla da fare anzi no la mia passione sono le storie d'amore eh Giulia però questa qua vedi questa qua è una tragedia giusto avete detto qua è una tragedia eh più tragedia per quel marito che li trovo eh sì sì effettivamente Giulia tu nei panni di Desdemona ci stai proprio precisa appennendo lo capite ma figliatemi sti panni e chiatevenna chiatevenna vedi Desdemona aveva sposato un hotel e e chiuditevi a chiave trovatevi una stanza in questo hotel facite quelle che volete ma chiatevenna chiatevenna per cortesia sto parlando con un passione dunque eh Otello viene ingannato da Iago che gli fa credere che sua moglie Desdemona lo tradisca con Cassio il fazzoletto il fazzoletto non ne tenghi più ma la mia paura signora per farla breve per farla breve eh Otello credendola infedele uccide Desdemona soffocandola eh e poi Iago uccide Emilia se è moglie ma moglie di chi? è moglie di Iago e così voi uccidete vostra moglie io uccido la mia per solidarietà e alla fine e alla fine alla fine Otello accorgendosi del tragico errore si uccide così una volta una volta solo tre due amico amico eh oh sentite Otello scusate scusate Otello scusate sentite io vi vorrei conoscere mia moglie che è padita di teatro ma con molto piacere ci piace assai il teatro voi aspettate come dire in quella stanza sì sì è tempo di andarla a prendere ah ma se volete ve la potete pure portare in torneio portate bene no? non lo portate non lo portate non lo portate comunque aspettate un momentino che ora vado a chiamare va bene ci accomodiamo sì sì prego prego quella stanza lì prego ah Amatello una cortesia mica voi con mia moglie potete fare l'ultima scena dell'ultimo atto di Otello quello del soffocamento perché la possiamo provare mi raccomando con mia moglie ma mi raccomando però quando fate la scena stringete un po' capato fate la scena e buro va bene fate il vostro toco qua qua non signore è già tracì mi ha mai entrato a quel tempo io non ti conosco il po' ma non mi fa da diem ma diem zip zi dov'è quella fefì quella fefì che nascurna chi ha scusate voi chi c'è con te non fate finta di non capire mia moglie è con voi no 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 ma qua la moglie qua la moglie io ti voglio ne ho una sola ma basta confessate dove la nascondete io non nascondo nessuna moglie hai capito io non posso capire posso capire voi cercate di cogliere la vostra moglie in flagrante adulteria esattamente esattamente poi la focata di adatta olio mishza chi è ote no niente cose mie no mi preoccupate prego ecco 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 no Ma se questi signori fanno i servizi se ne scappano io mi trovo scomprendata. Io faccio così. Io faccio il prego io, faccio il prego. Non si mettono fuori. Avete capito? Abbiamo passato per voi. Voi. Bella. E che faccio di assettare l'uomo in coppa? Voglio stare assettato qua in coppa se ho fatto i tuoi. Ah, ah. E... Vabbè che voglio fare a tua madre. Mi ha chiamato porc. Ora ti voglio fare questo porc. Che cosa faccio ma? Lo faccio prendere il diretto così nella prima la rocca secca. L'avete preparato il valigio, compatti? Adesso capisci. Si capisci, si capisci, ma guarda tua madre, egli dì e le dì dì, capigliassà roba e la mettesso viz, che non so basti più i capi, perché si trova dell'olacauce, l'olacauce, ma non è che brutta faccia che ha fatto, pure i tuoi occhi, la stessa scelle pazza. Io non mi posso muovo, perché tengo hotel a miei lind. E chi è hotel? Ma, muo, calmi! Sentite. No, non te lo voglio sentire! Ma sul mio! Mangia pazienti, mangia pazienti, perché se no sta ferma, mi mettono i piedi un bacio, i piedi un bacio. Signor, un biglietto è stato mandato. Oh, grazie, grazie assai. Eh, ma c'è un signore che vuol parlare con voi. Eh, che, fate la stessa, fate la stessa. Ecco, favorita. Infelizia, carissimo! Allora, come dice, se ne è scappato! Ma vedi che i palucchi è proprio che ci lanza, l'angolo. E ieri sera, che il lupazzo di Don Raffaello fa gente mettere che la paura, eh! Cosa è controllata! Io non ho rietto quattro baccare, solo perché siamo amici e la cosa non mi conveneva. Però, ho facendo una gangariata. Questi sono scherzi che non si fanno. E chi lupazzero un maggiore là? Che voleva da me? Eh, carasazzo, chiedeva così, che non aveva ragione. Mi stia spattando che aveva faccia qualcosa. Lo spaccavo il violino e il gatto lo spaccavo. Voi non potete credere, come sono contento che vi ho incontrato il mio maestro di pianoforte! E vedete se la vai, io sono contento! L'uomo paraverga, che stiamo insieme. Dunque, se voi siete d'accordo, io ho organizzato già tutto. Partiamo alle 2.55. Arriviamo a Roma alle 9. Dormiamo a Roma. Il mattino ci svegliamo e prepariamo tutti i manifesti volantini, eccetera, eccetera, eccetera. Viaggiamo di notte, la domenica, e poi il primo concerto lo terremo a Parigi. Che ne pensate voi? Perfettamente! Bene, ma siete pronti? La valigia l'avete preparata? Ah, era stamattina che è pronta! Oh, che bello! Sentite, solo una cosa. Dal momento che io la devo proprio sistemare, la valigia, poi mi devo cambiare, mi devo mettere il vestito, voi fate una cosa, voi fate una cosa, aspettatemi, aspettatemi in questa stanza. Aspettatemi in questa stanza. Questa, questa, questa. Sì, ma non mi fate aspettare tanto, io non vedo l'ora di partire. No, giusto il tempo di vestire. Dobbiamo fare i soldi a palazzo. Ma un'altra cosa, ho preso questa canestrella di roba, giusto qua così, da due caccio cavalli, un po' di pane, faccio me rendere in tuo treno, eh, tenetela voi, tenetela voi, tenetela voi. La tengo io, sì, faccio male. Ma questa non l'ho comprata, eh, non l'ho pagata, no, faccio pigliate i tabi in giù. E pure Mario, e pure Mario, faccio dire, vi aspetto qui, vi aspetto, mi raccomando, non lo fate aspettare, sai. Ma io non ho guardato ne poco, non se pulisi i sumpo, sei, ma ho guardato ne poco, ma i fratelli tutto qua, non lo fate, non lo fate, e ti ci faccio qui, se faccio arrubare, non me ne che tenete, straccare stella, non lo fate, non bello, un po' che la roba, mi scavo a far merenda, lo faccio, la merenda, vedi qua, e chi stia appartito, non è merenda, bello assai non so che faccio questo però io sarò qua nato con la direttrice la canestra si ma voi vedete un po' che lo voglio facciano però ha tenuto un giudizio si può buttare la roba da mangiare questo è istinto favelico, è una cosa, è una cosa curiosa vero ma tu non piglio? si ma io che faccio non mi vado a conservare della credenza sta roba al sicuro al sicuro silenzio silenzio che modo è questo io mi avete chiamato la direttrice fate silenzio mi conviene si vede la direttrice va tu madonna mia che state dicendo? ah signora streppone ne parlò a me oppo i causette rosse ma adesso ti parlo qui ma no 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 ma l'ho ma certo ma chi l'ha dato? non c'è niente ma dite Ma come voi lui niedete l'ambo benato, ma di essere isso qua malamena il abaggiani o come ci penso? Oh Felici l'ambo mi avete chiuso dal verbo? Oh, 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 oh! Oggi sta no! Mum på lì, aprite! Ma togrippa una cosa! E là ci sono donne! Ah, ma chi deve essere hotel? Hotel? Eh, io sì! Così si chiama, la dettisi! Oh, te! Oh, è stato detto, chiamani, ci faccio vedere. I just, but I know vanilla, it's more organicese, quando è nata l'identitrice, eh sì perché pure io tengo l'istinto femenico, avete capito? Silenzio! Ma silenzio! Io mi andate a chiamare la direttrice? Quella si viene, va! Sì, abita la don Felice, c'ho sciammocca! Sì signora! E allora numero braga, io entro quando voglio! Oh ma giù, questo se ne è scappato! Ma non capito, ma no! E questo è un pezzo! Ah, buongiorno! Eccolo qua! Eccolo qua! Vi mettete paura? Tanto ho capito che siete una carogna! Grazie assai! E con voi non mi posso battere! Mi fate compassione! Ho saputo il vostro indirizzo da un cameriere della pensione e sono venuto a domandarvi dove abita l'amica vostra che parlava con voi ieri sera! La giornalista, quell'imbecille che voleva imparare l'educazione! Stamattina è sparita, non l'ho vista più! Sapete dove la posso trovare? Dove abita? Aspettate, aspettate! Voi cercate forse quella donna con cui vi siete appiccicati ieri sera sulla pensione, è vero? Ma guardate poca la combinazione! Ma guardate poca la combinazione! Ci tengo un appuntamento oggi alle 12! Andiamo di qua! Sì, sicurissimo! Sì, sicurissimo! Certo, certo! Fate una cosa peggiore! Aspettate in quella stanza, no? In quella stanza lì! Ma quando torna io puf! Te ve la presenti! E la bruciate! Di là! Perché qua non posso aspettare! Non potete aspettare! Perché sì che la vede! Ve vede! E se mi scappa! Vite bene! Vite bene! Allora mi raccomando! Appena la vedete entrare, mi chiamate! Su! Certo! Prego, prego! Accomodatevi, signor Maggiotti! Prego! Oh madonna! Oh madonna! Ma la vedete! Oh madonna! Oh madonna! Oh madonna, non l'ai che! E c'ho me, ma già sta yendo, ma pittà! Parola! In pensione! Occh, c'ho me donna nidè! Oh oh oh! Eh eh eh! E se mette me un bambani in pace! Eh eh eh! E se mette me un bambani! Ese, e se mette me un bambani! E se mette me, ormai! Hey! Partinaya! Sì, io una partinaya! andate ad aprire il portone non sentite suonare? su! la signorina portista ah ecco chi è? chi è il portone? la direttrice ah bene bene fatela entrare la direttrice prego fatela entrare la direttrice la direttrice passa molto bene ah signora prego si accomodi si accomodi signora si accomodi scusate se ve lo dico voi fate una gestione molto molto sciolta siete poco attenta insomma non so scappare una bella porzione di pazzo dalla pensione ah signora io ve li ho chiusi in queste stanze sì e quelli che avete portato con voi chi sono? i facchini i facchini i facchini 4 metri di fune però signora quello non è colpa oro è la malattia è la pazia se se ne vendono senza fare resistenza non li legate se fanno resistenza sì sì allora sì che li legate li legate certo e dico bene dico bene signora e dico bene e facchini voi dove andate beh voli voli ma tu con chi stai parlando la parlando compigno io te prega questo compigno non fa sì state mazzitte state mazzitte faccia apposta perché qua teniamo sette pazzi sì sette pazzi sì io li ho chiusi in queste stanze ma state state tranquilli non abbiate paura perché siamo al sicuro chiusa a chiave va bene sì permesso la direttrice prego buongiorno don figlio ma che è successo buongiorno perché mi avete mandato a chiamare con così tanta fretta e me ne chiedete ragione me ne chiedete ragione scusate se ve lo dico signora direttrice ma voi non sapete fare la direttrice no 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 non è cosa vostra non è cosa vostra e non ho capito quando viene mia nipote cicillo io le dico tutte cose e vi faccio vigenziare ah poi insomma signora dico io me non fossi scappato che va bene ma sette l'avete fatto scappare sette e non mi venite a dire signora che non sapevate niente non ve lo venite a dire perché una direttrice deve sapere tutto deve conoscere tutto e soprattutto deve essere responsabile della pensione della pensione aspettate un momento io non ho capito niente ma non fossi nasciuto pazzo ma già come pazzo sto sentendo silenzio silenzio eh signora dico ci ha luccato pure voi abbiate pazienza fatevi sentire ma perché devo gridare ma come non sapete niente ma veramente non sapete niente ma una buona parte di pazzi dalla vostra pensione sono scappato e sono venuto qua io li ho chiusi in queste stanze ma quali pazzi ma quali pazzi amalia steppone con la figlia e un maggior hotello e qui nate come si chiama e tutti gli altri sono un suonatore rubio lì sono l'aestro Enrico Bastardo e sono qua sì sto qua sono chiusi in queste stanze sì so ma qui non so pazzi ma non sono pazzi da secondo piano ma non sono pazzi sono pazzi ma non è vero voi non siete venuti su una pensione di pazzi quello è albergo e pensione aprite ste porte aprite ste porte ma è mai possibile ma insomma non felice non felice ma ci avete chiuso qua dentro ci avete chiuso perché ci avete chiuso dentro tutto questo dentro perché ci avete chiuso ma dovevamo girare con i concetti ma giù passa non felice tutto questo concetto non felice ma insomma che cosa dobbiamo partire non dobbiamo partire l'avete fatto basta basta brava signore brava come avete ammaestrati bene brava finalmente vi fate rispettare si si vi fate rispettare brava a me mi volevate anche i tiri ieri sera ma non è possibile non è possibile io li conosco bene questi signori sono tutti i miei clienti no sono clienti di mia nipote cicci il medico caro e quando sarà il momento quando è pronto lo stabilimento mi riporterò anzi questi signori mi riporterò tutta rocca secca ma cosa hai dito cosa hai dito la signora la conosco bene la signora la figlia la figlia la figlia quella che scudete un caffè che fa scudete il caffè ma no ma che state dicendo che sto dicendo e dimmi un po' quello che suona il violino come si chiama il maestro Enrico Bastetta Enrico il pasticciere non è pazzo ma no che non è pazzo ma non è pazzo no si che è pazzo mi volevo portare in tutta Europa a fare la giornata ma come non è pazzo ma no signore il maestro Enrico Bastetta lo vedete così perché due anni fa ebbe un grande dispiacere il compagno che lo accompagnava durante i concerti lo abbandonò e il fatto di restare solo questo dolore l'ha fatto diventare così come lo vedete vagato triste malinconico ma vi assicuro che è un bravissimo musicista è un virtuoso ma non è pazzo ma no che non è pazzo che lui è degli altri questo signore è d'azzo assolutamente no li vedete pazzi grazie signore che mi avete aperto la mente aveva ragione quando mi quando mi diceva veni veni che i pazzi non esistono i pazzi li invendiamo noi quando qualcuno ci è nemico in amore non so negli affari per gelosia noi gli dicevo è pazzo è pazzo lo mettiamo in manicomio e ce lo togliamo dai piedi e così io stavo facendo pure io con voi io pensavo che voi eravate pazzi da ringiudere il manicomio non è pazzo non è pazzo non è pazzo non è pazzo come avete potuto credere questo come ho potuto credere questo mi ha detto il mio nipote ciccillo è una pote mia che bruglione che bruglione capite non c'è che ci ha fatto sto bruglione che bruglione e sapete mi ha detto pure che mi ha detto pure che aveva in cuore 15 pazzi nella vostra pensione e che soprattutto ha pagato la prigione anticipatamente per un'intera annata hai capito che voglio che assassino che stai 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 la macchina elettrica nipote mia. Eccola qui la macchina inettrica, eccola qui. Lange, invito la spina nella presa, spinga il bottone. Ecco qui. Funziona la macchina, sì che funziona. È rinzavito il nostro riposo, con c'è rinzavito. Mascalzone, Pugia, Mario, tu hai scialacquato 24 milioni di lire in dieci anni di permanenza qui a Napoli senza combinare niente. Ma come è stato possibile una cosa di questo genere? Assassino, assassino, gallo, quadro. Sì, sì, io vi ho mentito, vi ho ingannato, ho ingannato tutti voi, ma vi ho ingannato perché ero diventato pazzo per il gioco. Sì, sì, la verità è che a Napoli tenevano sacchie ribte, non poteva asciugare da nessuna parte, non volevano accedere. E che potevo fare? Mi dovevo salvare. Per salvarmi ho inventato la storia della clinica. Gli ho detto a mio zio che voi, sì, tutti voi eravate pazzi. E naturalmente io gli ho detto che ero il vostro medico. Per salvarmi vi ho cercato quel milione e duecentomila lire dicendo che mi serviva per pagare l'annata anticipata dello stabilimento. Voi l'avete voluto vedere ed io, non sapendo cosa fare, ho già portato l'angolo. Figaro, figaro, figaro qua. Ah, che zitta! Uffo! Che canti e canti! Oh, vedi che si stona! Canta di meglio le giucce nel mese di marzo! Giucce, non si canta a giucce! No, non serve, ho confessato tutto. Che figura, che figura mi hai fatto fare di fronte a questi signori, ad eleggente il dono, tutti quanti, assassino, 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 assassino. Avevamo, pensate che voi eravate tutti pazzi, tutti pazzi. Allora, ditemi. L'ultimo a comparire fu gamba frutta. Si è chiarito tutto, signora? Tutto? Sì, ma avevano detto che voi eravate tutti pazzi. Pazzi? Eh sì, pazzi. E che voi eravate una sambugnora. Sambugnore. E che facevate le novelle. Le novelle? Ma io sono una novelliera, scrittrice di novelle. Io faccio tre novelle al giorno, 90 al mese. Io scrivo sempre. Io quando trovo un eccentrico mi ci metto a pressa e mi faccio contare qualche cosa e combino la novella. Voi per esempio mi ispirate. Io sono sicura che da quello che direte combinerò una bella novella. Perché sono certa che le cose che dite sono interessanti, utili a tutti, anche ai posteri. Perciò do un felice scioscia a bocca di Roccasella. Chi è? Come la pensa? Cosa ha capito della vita? Lo so capito della vita. E' bella domanda. E chi ci capisce niente della vita? Certo voi siete una scrittrice, io sono un povero cafone che un giorno ha deciso di partire da Roccasella per andare a Napoli e visitare la clinica dove mio nipote Cicillo curava i pazzi. Poi però nel frattempo, signore, nel frattempo, nel frattempo ho capito una cosa. Che mio nipote, anzi scrivete, scrivete, sotto dettatura. Ecco, io felice scioscia a bocca, ho deciso che mio nipote Cicillo, punto e pirva, deve prendersi la laura in medicina moderna, punto e sclamativa. Se non so la pirva, il punto e sclamativa, c'è un spezzo in gatto. Perché mio nipote Cicillo, con la laura in medicina, non deve curare i pazzi, no? Deve curare le persone normali. Sì, i poveri normali, le persone sane, quelli che dicono, no, io non dico mai i bucini, quelli che dicono, no, i schifezzi non lo faccio mai, non dico mai sciocchezze, quelli che dicono, no, i saci tutti, quelli che dicono, quelli che dicono di essere precisi, puntuali, saggi. Quelli che non hanno dubbi, ma sono certezze, queste sono le persone che mio nipote deve curare con la laura in medicina moderna. Eh sì, i pazzi, per carità, vanno a morare, sì, sono vacillanti, fragili, però non sono affascinanti e non sono mai, dico mai, arroganti, mai. Voi aveva immaginato una società in cui gli uomini fossero tutti precisi, saggi, corretti, ma sapeste che rottura di, che rottura, che schifezza di società. Eh, nella vita ci vuole un pazziario. Eh sì, soprattutto per vivere ci vuole un po' di follia. Un po' di follia. Ma allora ditemi, Don Felice, per curare i sani, i normali, i sapienti, quelli tutti di un pezzo, i perfetti, il dottore, che medicina deve fare? Il dottore, ogni giorno, festivo, feriale che fosse, deve, deve dare, deve prescrivere 100 grammi di dolce follia. Dolce follia? Sì, dolce follia. Perché la follia è bella. La follia ci fa sognare. La follia è libertà. Grazie. 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 Grazie.